L'universo è qualcosa di più che un problema scientifico da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode. Ecco perché la Chiesa ha urgente bisogno di religiosi che dedichino la loro vita a stare proprio sulle frontiere tra la fede e il sapere umano, la fede e la scienza moderna. È la riflessione offerta da Papa Francesco ricevendo la comunità di lavoro della specola vaticana. Il pontefice ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall'Istituto di ricerca scientifica inaugurato da Pio XI il 29 settembre 1935 affidato alla Compagnia di Gesù, sottolineando che nel contesto del dialogo interreligioso oggi più urgente che mai, la ricerca scientifica sull'universo può offrire una prospettiva unica, condivisa da credenti e non credenti, che aiuti a raggiungere una migliore comprensione religiosa della creazione. È molto importante che voi condividiate il dono della vostra conoscenza scientifica dell'universo con la gente, dando gratis ciò che gratis avete ricevuto.